11 febbraio 1963. A 30 anni compiuti da pochi mesi, Sylvia Plath, poetessa americana di origine tedesca, infila la testa nel forno della sua cucina e si suicida. Nella stanza accanto dormono la figlia di due anni e mezzo e il figlio di 13 mesi. Il suo matrimonio con Ted Hughes, poeta britannico che l'ha sempre tradita e maltrattata, ma di cui Sylvia è ancora innamorata con un amore morboso, è ormai finito da tempo. Sylvia lascia un romanzo autobiografico, La campana di vetro, e centinaia di poesie in cui manifesta tutto il suo malessere e l'incapacità di vivere una vita che non sente sua. E ora Mondadori pubblica Euforia, un romanzo di Elin Colhed, una scrittrice svedese che racconta l'ultimo anno di vita drammatico e nello stesso tempo intensamente vissuto da un punto di vista letterario di Sylvia Plath, poetessa indimenticabile che soltanto nella poesia è riuscita a trovare brevi attimi di felicità. Grazie a tutti.